IWC, Portuguese Automatic, Eleganza e Tecnologia. Il Portuguese, conosciuto anche come portoghese, deve il suo nome a una commissione speciale ricevuta da IWC nel 1939 da parte di due importatori portoghesi di orologi, che desideravano dei segnatempo da polso con la stessa precisione di quelli da marina. Per soddisfare questa richiesta, IWC utilizzò dei movimenti da tasca di altissima qualità, che garantivano una cronometria eccezionale. La collezione portugheise ha numerose varianti, che spaziano dai cronografi, fino ad arrivare a grandi complicazioni come il calendario perpetuo, la ripetizione minuti o il tourbillon. Tutti gli orologi portugheise hanno però degli elementi in comune, la cassa rotonda, i numeri arabi e le eleganti lancette a forma di foglia. Per la cassa, IWC propone come materiali l'acciaio inox, il platino o l'oro rosa 18 carati. I cinturini sono in pelle, acciaio o cauccio. Il modello IWC Portugheise Automatic, come suggerisce il nome, è dotato di un movimento automatico di manifattura IWC, che offre una straordinaria autonomia di 7 giorni, grazie al sistema di carica Pellaton, brevettato da IWC nel 1950. Il quadrante del Portugheise Automatic è disponibile in diverse colorazioni, tra cui argento, blu e rosso e ornato da una minuteria di tipo Chemin de Fer, così chiamata perché ricorda i binari ferroviari, come quella usata all'epoca per gli orologi da tasca. La scala suddivisa in minuti si inserisce armoniosamente nel quadrante con numeri arabi e sottili lancette a foglia. La disposizione è bilanciata e armoniosa, con i piccoli secondi a ore 9 e l'indicazione della riserva di carica a ore 3. Il vetro è in zaffiro bombato e antiriflesso su entrambi i lati. Il suo stile, sobrio e raffinato offre un collubio affascinante tra la storia dell'orologeria e la modernità, portando con sé un tocco di eleganza e innovazione al polso. Grazie.